Dal soft lending alla mild recession, salve a tutti, 13 aprile, nuova breve chiacchierata sui mercati finanziari con qualche spunto, qualche grafico, per analizzare il momento per dare un eventuale view, non sono consigli finanziari, opinioni personali a scopo didattico come sempre se questi contenuti vi piacciono, prima di partire un like su youtube e poi per iscrivervi al canale con la campanellina per appunto avere gli update in basso, poi trovate anche i miei articoli sul Sole24 dove approfondisco tanti altri temi legati sempre ai mercati finanziari. Ieri la Federal Reserve o meglio le minute della riunione dei membri della Federal Reserve di marzo, da queste minute che sono state pubblicate ieri emerge che i banchieri centrali si aspettano uno scenario di mild recession, quindi c'è questo virgolettato che ho estrapolato dalle minute appunto in cui appunto le proiezioni sono a questo punto a marzo includono uno scenario di mild recession, quindi recessione moderata sostanzialmente a partire dall'ultima parte di questo anno. Quindi stando a queste dichiarazioni, a questa aspettativa, il mercato obbligazionario che si è mosso in anticipo andando a scontare dei tagli da parte della Federal Reserve dei tassi già nella seconda parte di quest'anno, tra luglio settembre il primo taglio potrebbe non essere del tutto sbagliata posto che la Fed voglia iniziare a tagliare subito i tassi con la prima comparsa della recessione perché non è neanche detto che questo sia scontato. Andando a vedere la reazione dei titoli a due anni ieri, vedete ieri c'è stata una prima reazione quindi con un rendimento in calo dopo il dato dell'inflazione negli Stati Uniti che si è scesa al 5% per quanto riguarda il paniere principale, quello che però includi anche i beni energetici e alimentari e quindi che è abbastanza sfasato in questa fase perché c'è tanto effetto basso e ricordiamo che l'anno scorso di questi tempi era esplosa, era scoppiata purtroppo la guerra in Ucraina e quindi già i prezzi energetici avevano avuto un bel balzo e quindi dato che poi a volte sono un po' rientrati chiaramente l'effetto basso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso va a vantaggio di un calo dell'inflazione proprio perché si raffronta a un mese, a un periodo, quello dell'anno scorso di questi tempi in cui i prezzi delle materie prime decollavano facendo impennare l'inflazione e a questo punto, visto che adesso appunto c'è questo effetto base da scontare, il calo dal 6 al 5% su base annua del dato complessivo è viziato positivamente da questo dato ma non è strutturalmente, l'effetto base non è appunto un qualcosa che dà la sensazione di aver sconfitto in modo strutturale l'inflazione. Per quanto riguarda il dato invece quello core, quello senza tener conto questi beni energetici e alimentari è salito al 5,6 come previsto e si sta rivelando più rognoso, siamo in un contesto in cui l'inflazione core è più alta dell'inflazione principale, però tutto sommato è stato un dato positivo da un certo punto di vista, quindi il mercato inizialmente lo ha registrato bene, poi c'è stata volatilità, volatilità che è aumentata anche per quanto riguarda l'ultima parte della giornata in cui il mercato si è trovato a digerire appunto la pubblicazione di queste minute che hanno messo nero su bianco il concetto di mild recession, quindi lo scenario di soft landing si sta allontanando come abbiamo più volte detto e non sappiamo se sarà hard recession, cioè recessione vera oppure qui per ora si dipinge una moderata recessione, stiamo veramente sulle scale di grigio del ciclo economico ed è comunque già un passaggio importante a mio avviso da cogliere perché avviene dai documenti ufficiali, quindi lo scenario soft landing perde un po' peso ma non stiamo ancora in uno scenario previsto di recessione profonda e quindi questo è un altro dato da mettere in cantieri. Se andiamo a guardare il fear and greed index che ogni tanto osservo così calcolato dal sito della CNN con questa media a 5 giorni eccetera eccetera con le put call ratio, quindi se questo indice va in alto vuol dire che il mercato si protegge di più nel breve, se va in basso vuol dire che il mercato nel breve è poco protetto, sono più le call acquistate e chi compra le call è sostanzialmente una visione rialzista, questo però di una visione di breve ma ci dà l'idea perché parlare di breve anche se a me non piace poi dare visioni troppo di breve o concentrarmi su queste operazioni più eventualmente da trading eccetera eccetera da trader ma in questo momento visto che siamo nel mese di aprile che è un mese statisticamente rialzista per i mercati azionari, il secondo mese più rialzista dopo dicembre e non a caso perché è un mese in cui c'è una quantità importante di dividendi e quindi soprattutto tra aprile e maggio e quindi in teoria diciamo c'è una minor pressione a vendere i sottostanti soprattutto perché da questi sottostanti poi fioriscono tra virgolette le cedole, per esempio ci sono investitori come Warren Buffett che vivono di questo e quest'anno per esempio è stato calcolato che Warren Buffett soltanto di dividendi nell'arco del 2023 riceverà 6 miliardi di dollari. Poi fatemi sapere se vi farebbe piacere avere un tutorial sui come funzionano i dividendi eccetera eccetera in stile del corso obbligazionario gratuito che ho realizzato qualche tempo fa e che ho visto che ha avuto tra di voi un buon riscontro, un corso sui dividendi, fatemi sapere se vi può interessare così magari valuto questa tipologia di video. Ecco questo indice stavo dicendo comunque è in una fase positiva non ancora ai suoi estremi sotto 0,80 quindi vuol dire che il mercato ha un sentimento di breve rialzista e lo vediamo anche dello sgonfiamento della volatilità dei bond, l'indice MOV che è interessante perché questa volatilità ha una correlazione quasi perfettamente inversa rispetto all'S&P 500, infatti se andiamo a mettere anche il grafico dell'indice di Wall Street e invertiamo la scala dell'indice MOV per avere appunto un effetto ottico migliore vedete che c'è una fortissima correlazione, quando l'indice MOV perde volatilità, in questo caso sale ma la scala è invertita, vedete che tende a dare spinta all'S&P 500, quindi nel breve anche dalla volatilità che si sta sgonfiando sul mercato obbligazionario arriva questo sentiment bullish pieno però di divergenze, ne abbiamo già parlato anche ieri facendovi vedere i titoli che stanno sopra la media 200 periodi nell'S&P 500 stanno mettendo a segno un massimo più basso del precedente a differenza dell'S&P 500, quindi questa è una divergenza che indica che in prospettiva questo rialzo è poco sostenuto, potrebbe essere un po' tirato per i capelli, nel frattempo il mercato compra anche oro, vedete l'oro è vicinissimo ai massimi storici dei 2070 punti e continua a essere comprato nel video dedicato agli scenari, abbiamo evidenziato come l'oro sia in questo momento attrattivo per più scenari a disposizione e il nemico numero uno dell'oro è lo scenario di una deflazione, ma in generale per tutte le materie prime uno scenario macroeconomico di vera deflazione da non confondere con la disinflazione che è il rallentamento dell'inflazione mentre proprio la deflazione, cioè prezzi che scendono, il caffè che da un euro torna 0,90, questa è deflazione, in quel caso per l'oro si tratterebbe di uno scenario molto molto complicato, ma non è al momento uno scenario tra i più probabili, almeno ritenuti dagli investitori che continuano appunto a aumentare le quotazioni, a far aumentare le quotazioni dell'oro. Qualche altro grafico che vorrei mostrarvi è l'indice S&P 500. l'indice S&P 500 si trova, vedete, in una fase in cui per dimostrare forza dovrebbe mettere a segno un massimo più alto rispetto dal punto di vista tecnico a questi 4191 punti, invece qui non ce l'ha fatta, vediamo un po' se ce la farà, sta perdendo un po' di grip, oppure questo massimo di 4190 si sta rivelando. Potrebbe essere una soglia importante per capire dove vuole andare questo indice e quanto mai importante fare insieme un giro dei settori. Sapete che i settori all'interno del mercato azionario sono uno sguardo dietro le quinte, spesso guardiamo, si guarda l'indice generale, ma se poi si indossano gli occhiali a raggi X si va a vedere un po' come si comportano i vari settori all'interno dell'indice aggregato e si hanno dei messaggi anche abbastanza importanti e soprattutto diversi, si hanno dei messaggi appunto di quelli che possono essere gli scenari macro che in quel momento magari gli investitori vanno a disegnare con maggiori probabilità. È interessante, io lo faccio spesso nel weekend, ma adesso siamo quasi al ridosso del fine settimana, analizzare la parte weekly, ovviamente il time frame weekly è più pulito rispetto a un time frame giornaliero che può essere influenzato rispetto a tutti i time frame più brevi da altri fattori, mentre guardare un grafico con un time frame più esteso, quale può essere il settimanale, è un po' un modo di osservarlo un po' più pulito senza eventuali distorsioni e inefficienza di mercato volte anche a chiaramente rendere più profittebile l'attività di trading delle cosiddette mani forti, quelli che sono così perché hanno semplicemente più capitali e magari più conoscenza del mercato rispetto ai pesci piccoli. Bando a questo concetto però ecco il time frame settimanale, andiamo a vedere i vari settori principali dell'S&P 500 per vedere quali si trovano sopra la media 50 settimane, quella a 200 settimane la linea verde, per vedere la forza che esprime il grafico da questo punto di vista. Partiamo dai discrezionali, vedete i discrezionali sono in questo momento in difficoltà, sono in difficoltà perché sul time frame settimanale c'è stato l'incrocio, il dead cross, cioè la media breve è andata sotto, la media più lunga quindi dimostrando debolezza, questo settore sta dimostrando debolezza nelle ultime settimane, era partito bene nel prima parte dell'anno ma adesso sta arrancando proprio perché è un settore fortemente ciclico, quando il mercato inizia a fiutare la possibilità di una recessione mild o più deep che essa eventualmente si rivelerà, chiaramente i consumatori si rifugiano su quelli che sono i consumi di base, non tanto sui consumi discrezionali, quelli che si possono rimandare come ad esempio le auto o anche l'acquisto di case e quindi sostanzialmente i discrezionali sono un po' in difficoltà e questo ci dice che il mercato non esclude l'ipotesi assolutamente di una recessione, tra l'altro ripeto messa nero su bianco dai verbali della Federal Reserve si tratterà eventualmente di capire probabilmente nei prossimi mesi di quale entità possa essere questo calo, questa contrazione del PIL. Il settore dei tecnologici invece è più forte in questo momento dei discrezionali perché è legato molto ai tassi, è legato ai tassi se i tassi vengono visti in discesa e se la recessione non è appunto vista come una questione veramente drammatica a livello di utile eccetera eccetera, il settore tecnologico segue un po' il tema tassi e solo in seguito magari quando il tema crescita diventa appunto molto eventualmente preoccupante può andare a soffrire, però i tecnologici sono più forti dei discrezionali in questa fase sono sopra la media 50 settimane e utilizzano, vedete molto bene come supporto sul settimanale la media a 200 settimane. Le utilities sono in ripresa molto legate alla distensione dei tassi perché hanno un forte debito e sono dei titoli comunque anticiclici e quindi la ripresa che stanno mettendo a segno nelle ultime settimane indica che il mercato si sta un po' focalizzando sulla recessione. Gli energetici, devo dire che gli energetici sono un po' in rimonta lo vediamo, sono saliti sopra la media 50 settimane, lontani dalla media 200 settimane e sono stati in trading range ma sono comunque una fonte di preoccupazione perché gli energetici da un lato possono salire per questioni legate alla ripresa del ciclo economico ma dato che non siamo in una fase di ripresa del ciclo economico questo loro rialzo è un po' legato al rialzo del petrolio e legato anche alla decisione dell'OPEC di tagliare la produzione che ha riportato comunque il prezzo, ha evitato che il prezzo del petrolio scendesse sotto certi livelli e lo ha riportato sopra gli 80 dollari. Questo è un fenomeno inflattivo e in uno scenario di mild recession potenzialmente stagflazionistico, stagflattivo. Quindi sono assolutamente da monitorare in chiave di stagflation trade in questa fase eventualmente di scenario stagflation trade. Poi ci sono gli industriali che sono anche legati ai materiali e che sono anche legati appunto alle materie prime e quindi anche a questi settori a cavallo tra crescita ma anche appunto tema legato a fattori geopolitici. I finanziari invece sono molto deboli perché non stanno soffrendo il tema della crisi bancaria che non è assolutamente risolta. La crisi bancaria delle banche regionali non può dirsi conclusa per quanto per ora ci abbiano messo una pezza fornendo liquidità e quindi evitando la fuga dai depositi ma c'è il problema dei commerci del real estate molto importante. Ne parlerò in prossimi articoli sul Sole 24 ore e anche in qualche altro video. Poi ci sono il settore delle comunicazioni che è un settore ciclico che è in leggera ripresa nell'ultima parte ma vedete che sostanzialmente sta affrontando comunque a livello settimanale un death cross. In grande spolvero invece l'healthcare che è uno degli anticiclici per definizione è il settore forse più in forma in questo momento dove lentamente i gestori che si coprono da scenari più avversi stanno incrementando le posizioni sull'healthcare lo vediamo da 5 settimane consecutive di rialzo e dal sorpasso della media a 50 settimane. Anche i consumi di base difensivi riflettono questo movimento che abbiamo già visto in qualche precedente appunto ne abbiamo già parlato. Poi ci sono il settore degli industriali sopra la media a 50 periodi anch'esso e vedete il settore del real estate che è un settore assolutamente ciclico ed è un settore che soffre anche appunto questa dinamica potrebbe soffrire anche questa dinamica proprio del mercato immobiliare e legato anche alla finanziarizzazione dei titoli derivati e legati ai mutui delle aziende del commercial real estate e quindi vedete che è un settore in questo momento con la media a 50 che è scesa sotto la media a 200 quindi un settore che è in forte difficoltà. Quindi questo sguardo, questa rapida carellata che io vi invito e terminiamo con un altro settore ciclico molto importante è quello dei trasporti spesso il leading indicator. Vedete che in questa fase sta quasi per avvenire il debt cross, un nuovo debt cross cioè l'incrocio a ribasso della media a 50 settimane sulla 200 e sarebbe un segnale anche questo di un mercato che si calibra, si posiziona verso una recessione. Vedete che andando a fare su un time frame un po' più ampio, andare ogni tanto a osservare questi settori che hanno appunto nature diverse, rispondono in modo diverso ai vari scenari eccetera eccetera, dà uno spaccato più in profondità rispetto ad osservare semplicemente un S&P 500 che è lì sulle sue medie, sopra la media, in trading range eccetera eccetera. Andando nei vari settori si capisce forse un po' meglio, si può provare a capire un po' meglio il dietro le quinte del mercato e capiamo che in questo momento sono sopra la media 50 settimane, molto banalmente, quindi un segnale di forza, health care, consumi di base, mentre sono in una situazione di difficoltà i discrezionali, incrocio del death cross avvenuto e anche real estate e prossimo, lo vedremo nelle prossime giornate, il settore dei trasporti, quindi i settori legati al ciclo e all'economia hanno delle medie più brutte, hanno un'impostazione grafica più brutta dei settori difensivi e quindi questo è un dato di fatto che ci può aiutare appunto nel capire nel frattempo dove stanno andando i capitali, in quali settori, mentre se osserviamo semplicemente l'indice S&P 500 appunto prevale la fase cammello appunto di trading range, di un indice che appunto sostanzialmente se poi andiamo ad analizzare da un anno a questa parte dallo scorso aprile non sta andando da nessuna parte a parte costruire questa lateralizzazione seguita alla prima gamba ribassista dei primi mesi dello scorso anno. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate, se appunto un tutorial sui dividendi può essere utile, e parlerò anche, fatemi sapere se vi può interessare un focus specifico sull'oro che è comunque molto molto sugli scudi, vedete un po' continua a salire in questa fase di mercato. Alla prossima!